Allora ragazzi prima di darvi una mia opinione per quanto riguarda i primi due episodi su Okai tengo a precisare che faccio questo video con le cuffiette per non darvi troppo fastidio poiché accanto a me e proprio la casa qui accanto stanno facendo i lavori e quindi si sentirebbe un rumore assurdo. Spero che con le cuffiette si senta meglio la mia voce e che non dia fastidio il rumore dei trapani perché stanno buttando giù la casa praticamente in poche parole è ormai da giorni però a parte questo voglio dirvi la mia opinione per quanto riguarda i primi due episodi che ho visionato questa mattina i primi due minuti senza alcun tipo di spoiler. Allora ragazzi che dire io ho amato i primi due episodi per quanto mi riguarda basta solamente il primo episodio di questa serie a surclassare i sei di The Falcon e di Winter Soldier. È una serie diversa assolutamente però siccome si tratta sempre di Barbe Studios e di MCU ragazzi io sto adorando questa serie. Andremo a vedere la prossima settimana il terzo episodio come sarà se continuerà su questa scia ma ragazzi vi dico e vi assicuro che ne vale la pena spendere 50 minuti per il primo episodio e poi 40 minuti per il secondo perché si respira un'atmosfera natalizia che è senza alcun dubbio bellissima anche perché siamo anche noi sotto Natale e a me questa atmosfera piace tantissimo e azzeccatissima. Il personaggio di Clint lo conosciamo ormai da diversi anni ma Jeremy Renner nei panni di Clint Barton a me piace da matti è un personaggio sia serioso allo stesso tempo ma che allo stesso tempo è anche leggermente divertente molto divertente fa delle freddure anche in momenti difficili nel suo personaggio che sono fantastici secondo me quel tipo di ironia che a me piace infatti nei primi due episodi non si respira l'ironia tra virgolette anche banale molto spesso dell'MCU non è mai pesante per quanto mi riguarda è veramente molto molto carina come cosa non ci sono chissà che effetti speciali perché stiamo parlando di occhio di falco ragazzi ma vi assicuro che il primo episodio più che altro è un episodio incentrato più su Kate Bishop che su Clint Barton poiché ci devono introdurre questo nuovo personaggio che vi assicuro ragazzi poi è sicuramente una cosa soggettiva ma Kate Bishop è un personaggio estremamente interessante vedrete l'apertura del primo episodio che è veramente molto bella come cosa a me è piaciuto tantissimo questo flashback non vi dirò in che momento storico dell'MCU ambientato ma mi è piaciuto tantissimo quindi ripeto andatevi a fiondare subito quando avete tempo per vedere i primi due episodi però per chi li avesse visti adesso voglio andare a parlare un pochino più nel dettaglio perché Kate Bishop interpretata dalla Stanfield wow mi è piaciuta tantissimo ragazzi mi è piaciuta tantissimo io non conosco i fumetti però devo dire che ho visto delle immagini anche per fare alcuni video nel passato e a me sembra praticamente identica anche il costume viola che utilizza a un certo punto utilizzerà il costume viola anche Clint andando avanti con gli episodi ma devo dire che come vi stavo dicendo nella parte no spoiler il primo episodio è veramente un'introduzione funge a introdurre il personaggio di Kate la scena d'apertura del primo episodio con il flashback del 2012 ricondotto alla battaglia di New York dove vediamo la piccola Kate che vive con i genitori vicino alla Stark Tower io sinceramente non me l'aspettavo è stata un'apertura bellissima anche lo stesso personaggio di Kate è molto interessante mi piace molto è una persona che io non sapevo essere ricca lei è ricca in realtà quindi andando avanti con gli episodi magari potremo vedere anche un upgrade perché lei avendo i soldi potrebbe non lo so magari ampliare i suoi gadget anche se attualmente ha 22 anni quindi gli è stata tolta la carta di credito dalla madre però il suo personaggio secondo me può essere veramente molto interessante e mi è piaciuta da matti invece per quanto riguarda il secondo episodio vediamo più il rapporto iniziale tra Kate e Clint che mi è piaciuto particolarmente i due hanno una bella alchimia per quanto mi riguarda sia i due personaggi che i due attori si vede che si stanno simpatici secondo me si vede che si sono divertiti sul set e ripeto nei primi due episodi si respira un'aria veramente molto rilassata un'aria urbana tutto molto più terreno nel senso che Loki comunque sia è una serie che a me è piaciuta molto ma è una serie che lo sappiamo parla di un dio abbiamo visto varie cose qui invece si va a esplorare più l'ambiente urbano New York quindi a me è piaciuta moltissimo questa cosa ripeto è piaciuto tantissimo anche diciamo l'ambientazione natalizia che per me per il momento è molto azzeccata è molto azzeccata anche la Stanfield nei panni di Kate Bishop per quanto io non conosco il personaggio dal punto di vista cartaceo so qualcosina ma mi è piaciuta tantissimo e devo dire che molto spesso per quanto mi riguarda la Bishop Kate Bishop ruba anche la scena a Clint Barton probabilmente è una cosa che hanno voluto perché secondo me non dico che nell'ultimo episodio Clint potrebbe morire però avere due occhio di falco nello stesso universo anche se sappiamo che adesso arriverà il multiverso ci saranno più Spider-Man ci saranno anche altre cose però non lo so quindi non dico che sono sicuro che Clint morirà alla fine dell'ultimo episodio però forse ci andiamo vicino perché è palese che lei diventerà il nuovo occhio di falco e questa serie fungerà un po da passaggio di testimone per il momento ripeto è bellissima mi è piaciuta tantissimo tutti e due gli episodi mi sono letteralmente volati quindi veramente bene se devo trovare un difetto diciamo c'è un paio di cose che non hanno molto senso nella sceneggiatura se possiamo dire ovvero nel primo episodio quando Kate ruba e ruba prende in prestito il costume di Ronin e uno come hanno fatto gli scagnozzi a trovarla in quel vicolo di New York che New York porca vacca ragazzi è una città enorme però lì posso passarci sopra perché magari gli scagnozzi l'hanno seguita ma non posso accettare il come sia possibile che Clint abbia trovato così in fretta Kate e i mafiosi di turno cioè come ha fatto Clint a sapere dove si trovava Kate e i mafiosi per andarla ad aiutare non si sa ecco questo è un piccolo difetto se proprio devo trovare un difetto in questi primi due episodi per il resto mi è piaciuto tutto anche quel il nuovo fidanzato barra futuro marito della della madre di Kate che è mi sta così tanto sulle balle che voi non potete capire però è quello che deve fare il personaggio quindi anche lui mi è piaciuto in realtà anche se mi sta sulle balle ed è palese che nascondi qualcosa ed è molto interessante che alla fine noi vediamo se non sbaglio ecco ecco che in realtà qui ce la fanno vedere come il boss della mafia almeno di questo gruppo che tra l'altro a me come scelta di farli anche loro seri ma allo stesso tempo molto cazzoni mi è piaciuta perché batti beccano con Clint mentre lui è legato quindi a me come scelta questa è piaciuta e quindi anche lei ecco ha una serie a una serie avrà una serie quindi staremo un po vedere se passerà dalla parte del bene oppure in realtà non è estremamente cattiva staremo a vedere tutto veramente molto interessante nei prossimi episodi in due episodi so che dovrebbe apparire anche Yelena Belova la sorella di Natasha Romanoff Natasha che è stata nominata più di una volta all'interno di questi due episodi abbiamo visto il musical cioè mi è piaciuto molto a me ha fatto sbudellare da ridere ragazzi quando Clint deve recuperare il costume da quel tizio di colore scusate non ricordo il nome quindi di cotizio di colore e deve fare il gioco di ruolo si deve iscrivere al gioco di ruolo cioè dice Clint a un certo punto cioè cavolo io ho combattuto Thanos e devo fare questa stronzata cioè mi è piaciuto un bordello mi è piaciuto tantissimo e tra l'altro non so se avete notato nell'episodio nel primo ora non ricordo ma in uno dei due episodi mi sembra il primo c'è Clint che sta cenando con la famiglia in questo ristorante giapponese c'è quel gattino che fa con la mano su e giù lo stesso gattino c'era anche nell'episodio di The Falcon e The Winter Soldier quindi non so hanno non so una passione per i gattini che boh non lo so è una cosa interessante da da dire una chicca e inoltre io ho riso sorriso quando c'è Kate e Clint che stanno nelle strade di New York e dietro c'è praticamente scritto Disney con Topolino cioè proprio fare la pubblicità nella pubblicità cioè è qualcosa di bellissimo perché la Marvel appartiene alla Disney quindi cioè è stata una bella chicchetta però ripeto a parte questi due errorini secondo me ma che ci possiamo passare assolutamente sopra sul come sia possibile che Clint abbia scoperto dove si trovava in quel momento e così subito Kate per il resto a me è piaciuto i personaggi tutti in parte per il momento l'atmosfera bellissima natalizia l'alchimia tra i due personaggi tra i due attori quindi per il momento tutto molto positivo staremo a vedere andando avanti con gli episodi io credo che la prossima settimana farò una live qui sul canale con altri ospiti se ci saranno per parlare di questi primi due episodi per sapere anche un po' una vostra opinione e l'opinione di altri ospiti se ci saranno poi staremo a vedere ma penso la live ci sarà quindi io vi ringrazio iscrivetevi al canale se volete fatemi sapere una vostra opinione se vi sono piaciuti questi due episodi e noi ci vediamo alla prossima ragazzi ciao